ciao a tutti ben arrivati o bentornati sul canale sono qua in camera che metto a posto un po di roba perché come al solito nel testare provare spacchettare sono mezzo sommersa appena girato se vi interessa il make up che mi vedete indosso ho fatto il get ride with me perché volevo provare un po di prodotti nuovi che vi faccio magari vedere nei precedenti che vi ho fatto vedere nei precedenti spacchettamenti ma che magari non avevamo ancora visto in azione quindi ne ho approfittato per fare una selezione di cose che fossero nuove che fossero da provare e soprattutto non è venuta fuori una selezione low cost quindi se vi interessa vedere lo costo comunque drugstore qualcosa che sia di basso medio costo massimo e quindi se vi fa piacere magari ve lo posto domani stesso venendo invece ai pacchi che ho qua ho un po di cose appunto che voglio mettere a posto inizierei per esempio con pixi pixi mi ha inviato già da un po di tempo devo dire la collezione alla vitamina c e ho intenzione di provare qualcosa perché la vitamina c è una delle cose che mi piace di più in skin care ma l'hanno mandata dentro questo barattolone che credo riutilizzerò per qualcosa non so a quali fini lo destinerò però ci farò qualcosa sapete pensavo di metterci le lucine dentro innanzitutto così era un'idea arrivando però le cose che riguardano la skin care vediamo cosa c'era dentro c'è il toner quindi il tonico alla vitamina c che contiene non solo vitamina c ma anche acido ferulico ed è quindi illuminante come sua caratteristica principale io lo andrei ad aprire sinceramente sto utilizzando un tonico che mi piace tantissimo in questo periodo però non vi nascondo che come al solito tendo ad aprire più prodotti per quanto riguarda la skin care ultimamente perché magari non tanto per per esempio le creme crema giorno crema notte ma tutto quello che ci ruota intorno ahimè sono un po infedele comunque tonico alla vitamina c acido ferulico quindi se cercate un tonico illuminante sappiate che c'è anche quello alla vitamina c di pixi poi mi ha mandato il belm per il viso quindi una balsamo quindi una crema magari da giorno un po più leggera presumo che si chiama vitamin c caviar belm con vitamina c e acido ferulico illuminante è una maschera da lasciar su dice maschera schiarente senza risciacquo quindi non è non è un vabbè sì possiamo se è una maschera senza risciacquo possiamo chiamarla anche crema perché io questa differenza tra maschera senza risciacquo e crema non l'ho mai ben capita comunque dice ha una potente azione antiossidante promuove la produzione di collagene e aumenta la luminosità della fiera esaurito lo spazio della memoria comunque stavo vedendo che questa è una maschera senza risciacquo appunto che va applicata sul viso in modo che le vitamine incapsulate si fondano con la pelle bisogna lasciare assorbire quindi una sorta di crema poi alla fine eccola qua vitamin c caviar belm quanto amo la skin care di pixi non è non è spiegabile non è spiegabile poi cos'altro c'era dentro vitamin c serum quindi sempre un siero acido ferulico e vitamina c in questo caso dice illuminante antiossidante da un immediato boost di radiosità la vitamina l'acido ferulico ferulico sono stati è stato è stato è stato provato che servano per la riduzione degli effetti del sole degli effetti dannosi del sole e dei radicali liberi aiutano a migliorare il tono della pelle a creare una un incarnato più liscio e più luminoso dice che vanno applicate da due o tre gocce su viso e coltè quotidianamente appunto quindi questo è un siero è infatti ops no stai qui fermo infatti è un siero con la sua pipettina dosatrice ragazze che vi devo dire penso allora adesso sto facendo tutta la skin care coreana come sapete è arriva il video però io vorrei fare tutta una skin care di pixi vi dico la verità questa poi è una lotion sempre la vitamina c all'acido ferulico idratante e illuminante eccola qua in questo caso dice l'ozione di idratazione illuminante per la pelle la vitamina c è un antiossidante potente che favorisce la produzione di collagene ed è conosciuta per stimolare anche la luminosità della pelle l'ecla lo chiama l'ecla con si utilizzate quotidianamente al bisogno vabbè e quindi questa è una lo sono quindi una crema bella leggera perché in formato di lozione quindi secondo me giorno meglio giorno si finisce con il cleanser che vedo che è questo vitamin c su is cleanser con fiori d'arancio acqua di fiori d'arancio ed è appunto per la pulizia illuminante come va utilizzato tipo una un'acqua micellare presumo dice acqua di pulizia illuminante contiene la vitamina c stabile per un effetto antiossidante potente l'acido ferulico e la proprio e il probiotico aiutano a preservare proteggere la pelle utilizzatela per pulire la vostra pelle applicate sul viso con una rondella di cotone o con le vostre mani non ha bisogno di essere risciacquata ma come è possibile questo devo capire come si usa ragazzi non mi è chiaro devo andare sul sito di pixi e vedere se mi dice di più ma chiudiamo con pixi e passiamo al make up passiamo al make up ho ricevuto questa box da max factor e ho visto che c'è una figata ci sono tutti i nuovi color puro idratazione assoluta disponibili in dieci shade io ne ho sei i color elixir stiamo parlando dei color elixir quindi questi rossetti che dovrebbero essere idratanti quindi non dovrebbe trattarsi di rossetti matte e guardate che colori bellissimi cioè questo è veramente stupendo è un color mattone rosato ma c'è anche un bel rosso puro eccolo qua un rosso bello puro io questi qua li vorrei proprio utilizzare in qualche get ready with me per vedere come come sono sulle labbra c'è anche un borgogna aspettate questo che bel borgogna questi vanno provati perché non non c'è scritto se sono come si dice matte ma penso di ma penso di no perché c'è scritto colore puro idratazione assoluta e ultra confort quindi non penso che siano matte ma li vado a provare sicuramente quindi rossetti invece in questa box sempre di max factor ci sono nuovi fondotinta eccoli qua si tratta ops state fermi fondotinta e correttori e cipria si tratta della whole day matte collection quindi fondotinta matte pelle perfetta opaca in un flash c'è il fondotinta più primer che sono praticamente alta coprenza lunga tenuta è il primer invece anti lucidità e pori minimizzati quindi da una parte avete il primer vedete da passare in questo modo e dall'altra quindi shine control e dall'altra invece la lo stick del fondotinta che io in tre tonalità o il warm sand poi io il warm helmond è il beige quindi o tre colorazioni che vorrei farvi vedere aperte molto bene il colore è sui tappi quindi se io con fondi tappi non so più di cosa vi sto parlando questo dovrebbe essere il beige vedete quindi un fondotinta in stick non so io con fondotinta in stick non ho mai avuto un buon rapporto perché ho sempre paura che siano secchi per la mia pelle questo è il warm helmond eccolo qua un po più chiaro ovviamente e poi c'è il warm sand che dovrebbe essere più scuro quindi non dovrei far fatica a riconoscerlo che è questo qua dall'altra parte invece c'è sempre lo stesso prime quanto riguarda invece i correttori si chiamano sempre infinity face finiti anzi così come questi che si chiamano face finiti all day flawless concealer e io ho due colori shade 0 10 shade 0 30 eccoli qua quindi non ho la tonalità mediana quindi io tenderei a provare la 0 30 dice che è flexi hold quindi sapete quella formula che accompagna i movimenti del viso long lasting come correttore dice di essere long lasting e quindi lunga tenuta e alta coprenza finisce la la gamma la cipria che si chiama miracle veil radiant loose powder quindi una cipria luminosa fissativa trasparente con finish luminale allora quello che mi lascia diciamo con ovviamente una cipria col sifter no quello che mi fa sperare bene è che max factor ha un target di età medio alto quindi è più un target che si riferisce alla signora quindi quarantenne 35enne piuttosto che alla ragazzina quindi insomma spererei che questi fondotinta che sono appunto in pan stick siano comunque adatti a una pelle che magari non ha più super tante lucidità ma più la problematica di non segnarsi quindi boh lo proveremo e anche questo quindi vorrei metterlo all'opera e parlarne vedendo come per forma poi ho ricevuto una box dalla the original del light makeup questo che un brand che so che vendono in ovvi e mi hanno mandato dei prodotti che adesso vi faccio vedere che sono allora intanto il brand è questo qua dice ciao ti presentiamo il marchio del light makeup che elimina facilmente i tuoi beauty problems rimozione del trucco problemi con lavaggio delle maschere capelli secchi rilassati perché abbiamo la soluzione per tutto questo elimina tutti i tuoi inconvenienti è fatto prova i nostri prodotti e guarda come facile disponibile appunto negli ovvi s selezionati e se volete seguire l'account instagram è delette punto makeup quindi è appunto promozionato da ovvi s è quello che mi hanno mandato è il jumbo set che ha praticamente questa scatola qua dove viene all'interno contenuto un una mascherina per dormire di fatta di glitterini e un guanto invece per lo struccaggio diciamo che il protagonista è senz'altro il guanto per lo struccaggio e poi insomma magari anche per fare un'idea regalo hanno aggiunto la mascherina con i glitter o con le paillettes insomma quel che sia adesso ve la faccio vedere questa è la mascherina appunto vedete per dormire super carina quindi se tutto va come devi andare nella mia futura vita viaggerò e prenderò gli aerei e quindi dovrò dormire a bordo porterò sicuramente la mascherina con le paillettes e dall'altra parte tutta in velluto quindi devo dire anche super confortevole è rosa ma giustamente se voi ci passate la mano come sapete e pezzinate le paillettes nell'altro verso come vedete diventa dorata molto carina invece per quanto riguarda il guantino va aperto in questo modo quindi voi andate ad aprire la confezione dentro c'è il guantino struccante sapete che io mi strucco sempre con gli oli struccanti quindi il guantino è super pratico anche e soprattutto da mettere in valigia io conserverei addirittura questo non è malo da poterlo riporre quando me lo porto dietro eccolo qua morbidissimo super vellutato e dice ovviamente di rimuovere il make up anche solo con l'acqua perché secondo me si riferisce a trucchi molto molto leggeri sugli occhi ma no non fa per me io li uso sempre ma accompagnandoli al mio struccante non me ne vogliano abbiamo un altro guantino struccante però non riesco a capire perché è più cicciotto non lo so proviamo ad aprire ah no perché non so perché ci fosse scritto così ma non era un guantino di rimozione del make up ma una fascia per raccogliere i capelli vedete se voi vi dovete struccare la mettete così andate a raccogliere i capelli ovviamente ci dovete infilare questi dentro io adesso per farvela vedere al volo l'ho messa così ma non è un guantino di rimozione del make up c'era scritto così ma dentro poi c'era questo onestamente non ho capito poi qua invece dice microfibra ultra assorbente per i capelli quindi in questo caso è un asciugamano in microfibra assorbente per avvolgere appunti i vostri capelli vi ricordate che io avevo quello che avevano venduto da sephora ragazzi io lo uso sempre per trovarmi bene mi trovo super bene devo dire assorbe veramente tantissimo è molto pratico quindi sono curiosa di usare anche questo perché questo ha proprio la forma vedete della testa quindi magari voi magari senza magari voi lo mettete così ci mettete i capelli dentro e poi lo mettete qua con il bottone ma che bella ma che bella che belle immagini vedete che ha il bottone quindi quando poi dopo andate a raccogliere qua dietro ha in pratica l'elastico che lo fissa davanti quindi questo per quando lavate i vostri capelli io di questi ne ho già uno e mi piacciono parecchio devo dire che li uso molto volentieri poi ragazzi visto che mi hanno parlato di capelli vi faccio vedere tantissime cose per i capelli che mi sono arrivate ma prima vi faccio vedere le cosine di dottor jart sono stata al press day e hanno presentato delle cose nuove che sono allora innanzitutto due maschere queste maschere lenitive calmanti quindi cica per mask che è appunto una maschera per pelli sensibili calmante quindi se il freddo le dermatiti non vi danno tregua insomma la vostra pelle è una pelle reattiva questa è una maschera alla centella asiatica la centella asiatica è proprio lenitiva cicatrizzante e calmante e infatti era un'erba che è stata chiamata in oriente anche erba della tigra perché avevano notato quelle tigri quando si ferivano tra di loro lottando poi andavano a cicatrizzarsi rotolandosi proprio nel campo di centella asiatica quindi mi hanno appunto mandato due maschere cosa carina è che il patch utilizzato è in alga naturale al 100% e quindi può essere utilizzato anche sulle pelli più sensibili quindi queste maschere costano peraltro da sefora 5,99 ma di tutto quello che vi nomino vi lascio l'elenco in info box altra cosa che mi hanno mandato è la mist ma questa ve l'avevo già fatta vedere perché l'avevano presentata al precedente press day e me ne avevano regalato una confezione e quindi vi devo dire che io la uso sempre è una delle mie mist preferite quindi questa ve l'ho già nominata più e più volte vi dico soltanto che è una cream mist quindi una mist in crema una sorta di crema idratante spray con 5 ceramidi per cui se avete problemi di pelle secca disidratata questa è top ha uno strato idratante e uno strato cremoso quindi va un po' shakerata e poi ha lo xilitolo appunto oltre alle ceramidi che anch'esso ha un'efficacia idratante poi stavo guardando appunto le schede perché mi mandano sempre anche le schede del prodotto l'altro prodotto che mi hanno mandato è questo che si chiama Tiger Grass Calming Gel Cream questo qua è praticamente un gel leggero ultra idratante a base sempre di centella asiatica che lenisce pelli sensibili ed irritate e calma gli arrossamenti ha quindi l'acqua di foglia di centella asiatica il complesso di centella asiatica ed è appunto un gel una crema gel quindi a chi piace la texture in gel amerà questo prodotto insomma ve lo faccio vedere è un tubo eccolo qua quindi un gel in tubo e per quanto riguarda la quantità sono 50 ml quindi il classico contenuto insomma delle creme viso l'ultima cosa è uscita una nuova shake and shot che sono le maschere quelle di Dr. Jart che si compongono di due fasi che vanno inserite all'interno di questo shaker diciamo e poi miscelate vedete sono due fasi voi le unite all'interno andate a miscelarle e poi con la spatola shakerate ovviamente chiudete il tutto shakerate e poi con la spatolina la andate ad applicare ragazzi questa maschera è da fare in coppia perché ce n'è tantissima cioè è impossibile terminarla io vi devo dire la verità quando le ho provate le ho tenute tre giorni in frigorifero massimo in tre giorni me la sono fatta tre volte perché ce n'è da fare insomma tre volte abbondantemente quindi è veramente tanta la quantità questa ero curiosa di leggere cosa contenesse è una maschera ad azione detox che purifica la pelle in profondità donando un finish più luminoso una sensazione di freschezza ha due booster all'interno uno è a base d'acqua e l'altro è a base di spirulina con estratti ad azione detox e purificanti si forma in pratica una sorta di strato gommoso che poi voi tirate via dopo 15-20 minuti dall'applicazione poi arriviamo quindi ai prodotti capelli ragazzi i prodotti capelli mi sono arrivati da un sacco di brand forse perché questo è il periodo in cui si perdono tanti capelli si ha bisogno di tanti prodotti insomma per andare ad agire sui nostri capelli ed Elgon Elgon sapete che è uno dei miei brand preferiti e per quanto riguarda i capelli mi ha inviato proprio una box molto bella e in questa box c'è un prodotto di cui vi ho parlato ma probabilmente io vi vorrei fare addirittura un video specifico su come funziona questo prodotto perché in tante mi avete detto che ho dei bei capelli che vi piacciono come risultano luminosi che vi sembrano corposi e vi devo dire che effettivamente è così e ho utilizzato tantissimo questo ciclo di prodotti qua questo è un prodotto un po' particolare innovativo senz'altro diverso da tutto quello che avete visto ve ne avevo parlato facendovi delle storie che avevo lasciato in evidenza per un sacco di tempo però io avevo provato questa di fiala il nutrimento supremo poi c'è la brillantezza suprema e la corposità suprema come funzionano andiamo per gradi allora sono delle mega fialone ve le faccio vedere vi faccio vedere corposità ma insomma a parte il colore differente sono identiche quindi quella che riguarda la corposità è rosa ed è appunto come vedete questo liquido in questa mega fialona invece qua nel pack piccolino abbiamo in pratica delle monodosi di prodotto cremoso questo prodotto cremoso è contenuto all'interno di alcune fialette vedete queste fialette come vedete hanno una parte di crema come funziona e poi c'è inserito anche come vedete un dosatore cioè uno spruzzatore voi prendete quindi la fiala grossa e andate a mettere fino al punto indicato qua c'è una riga andate a inserire il liquido fino al punto indicato e shakerate dopodiché inserite questo spruzzatore lo spruzzate sui capelli lavati tamponati al posto del vostro balsamo io lo faccio una volta ogni due tre settimane invece che utilizzare il balsamo vado a fare questo trattamento qua e lo lasciate in posa e dopo sciacquate il capello allora non so dirvi quale miracolo avvenga fatto sta che voi dopo che sciacquate i capelli avete i capelli morbidi luminosi seta pura ragazze veramente li toccate e vi sembra il capello che vi abbiano fatto un trattamento di non lo so la cheratina qualcosa sono diversi c'è una roba pazzesca questi l'avevano presentato allo scorso Cosmo però io mi ero innamorata immediatamente del prodotto vi dico che cosa dice perché io ve l'ho spiegato come l'utilizzatrice ma vi vado a leggere cosa dice dice infusion crema base agisce come catalizzatore quindi la cremina che c'è qua per i concentrati di infusion cioè questi ricco di liposomi per massimizzare l'effetto sugli attivi del capello non usare da solo scegliere il concentrato infusion più indicato al tipo di capello aggiungere i 5 ml di concentrato infusion fino all'attacca agitare derogare sulle lunghezze lasciare in posa 5 minuti e risciacquare e io ragazzi vi assicuro che vedrete dei risultati pazzeschi con questo trattamento io ho utilizzato quello nutrimento non ho utilizzato quello corposità e quello brillantezza ma vi dico che adesso ho intenzione di rifare un ciclo di trattamenti e di alternare i vari i vari trattamenti quindi fare una settimana una settimana una settimana quindi li lavo due volte alla settimana una delle due volte alla settimana che utilizzo il trattamento cioè che lavo i capelli e utilizzerò il trattamento e mi hanno mandato invece la maschera riparatrice e lo shampoo della linea Restoring Refibra appunto quindi un trattamento ricostituente che non vedo l'ora di provare perché ogni volta che provo un loro prodotto sono veramente super soddisfatta mi piace veramente tantissimo per cui Refibra già mi suona come una figata di prodotto non vedo l'ora di provarlo gli altri invece questi li ho super già provati quindi non vedo veramente l'ora di rifare il trattamento perché quelli che avevo precedentemente li ho appunto terminati poi sempre per quanto riguarda i capelli Skinious che è un brand che mi piace tantissimo perché è per esempio uno dei miei seri preferiti il fospidin è il rossiero mi ha mandato però delle cose per i capelli sto prendendo l'integratore il FortiCare che è un integratore a base di appunto complessi dedicati a ristrutturare il capello quindi per la via interna quindi come integratore sono più o meno a metà trattamento ma volevo anche abbinare proprio per il fatto che vi ho detto che comunque cambierò shampoo quindi non utilizzerò sempre lo stesso perché ho notato che preferisco alternare i tipi di shampoo quindi un altro da provare devo dire sarà il FortiCare shampoo attivo ristrutturante rinforzante volumizzante che ha questo complesso gliccina glicogeno che aiuta a mantenere i capelli idratati elastici e luminosi fucoxantine che hanno un'azione di protezione e di stimolazione del microcircolo perché ricordiamoci che ha un cuoio capelluto un microcircolo attivo il capello insomma va curato a monte cioè quindi praticamente è proprio quello che avevo notato anche all'ultimo cosmo proprio in tutto il settore della hair care era proprio il puntare l'attenzione sul cuoio capelluto e sul momento della nascita del capello ok pool di aminoacidi appunto che costituiscono la cheratina che è la proteina fondamentale della struttura del capello biotina fosfolipidi zinco rame magnesio ferro e silicio quindi veramente uno shampoo che mi sembra ottimamente strutturato non mi resta che provarlo e si presenta in questo modo mi piace molto anche il metodo di apertura e chiusura e per come conosco skinius e ne ammiro appunto la serietà perché mi sono sempre trovata stra bene con i loro prodotti mi aspetto grandi cose e poi c'è appunto abbinata la maschera la maschera attiva ristrutturante rinforzante e volumizzante sempre con il complesso glixina che è quello che vi ho fatto vedere prima anche loro hanno fatto delle fiale ristrutturanti che si chiamano forti care lozione attiva e sono appunto delle fialette singole da applicare sul capello sul cuoio capelluto presuppondo iniziare l'applicazione della lozione dal cuoio capelluto massaggiandolo delicatamente col polpastrelli e distribuire il contenuto del flaconcino su tutta la lunghezza con l'aiuto di un pettine procedere all'asciugatura si consigliano almeno due applicazioni alla settimana per un ciclo di due mesi quindi altri prodotti da usare in sinergia maschera conditioner no scusate shampoo maschera e lozione poi Yves Rocher Yves Rocher è un brand di costo medio basso con cui per quanto riguarda i prodotti mi trovo stra bene per quanto riguarda lo shampoo è stato veramente da me promosso tantissime volte come miglior shampoo low cost in assoluto credo che sul low cost sia imbattibile rapporto qualità prezzo quindi vince su tutta la linea su brand praticamente di fascia analoga di prezzo non a paragoni e mi hanno mandato la loro linea colore che si compone di maschera in crema due in uno con assai antiossidante e con fruttani di agave che riattiva la microcircolazione del cuoio capelluto ed è anche con un complesso diciamo di attivi che va a proteggere il colore poi c'è il shampoo latte per capelli colorati senza solfati e senza siliconi sempre con fruttani di agave sempre della linea colore e poi per terminare c'è ovviamente il balsamo sempre di questa linea quindi anche qua voglio assolutamente provarli mi sono sempre trovata molto bene con i loro prodotti non so più dove appoggiare e quindi non vedo l'ora di provare anche shampoo e balsamo e maschera termino poi la questione capelli con alfaparf alfaparf mi ha inviato devo dire da parecchi mesi ma purtroppo come sapete quest'estate ho un po' rallentato vi ho deliziato se vogliamo e spero vi abbia fatto piacere con un po' di vlog delle mie vacanze ma insomma c'era anche la polmonite di mezzo non avevo tanto la testa per il beauty quindi devo dire che questi prodotti sono qualche prodotto mi è stato mandato un po' di tempo fa e ve ne parlo soltanto adesso e tra questi appunto alfaparf allora in questo caso ho ricevuto l'energizing tonic quindi un tonico energizzante presumo quindi che sia un tonico da erogare sul cuoio capelluto quindi anche in questo caso come vedete la tensione sul cuoio capelluto è della linea semi di lino è un appunto tonico da massaggiare sul cuoio capelluto poi sempre della stessa linea abbiamo lo scrub ribadisco la tensione quindi si sposta tantissimo quasi per tutti i brand sull'esfoliazione la stimolazione della microcircolazione del cuoio capelluto e quindi i prodotti diciamo novità che avevo visto per esempio al Cosmoprof 2019 quindi a marzo erano proprio gli scrub e questo è uno di questi si chiama Gentle Esfoliating Scrub esfoliante delicato ed è questo tubino vedo già che ha dei granulini quindi sicuramente andrà massaggiato sul cuoio capelluto pre-shampoo e ovviamente tutti questi prodotti li devo provare e man mano appunto che li proverò vi racconterò come mi trovo anche loro hanno fatto una lozione energizzante trattamento intensivo energizzante per capelli indeboliti che tendono alla caduta con effetto fresco non appesantisce contiene microbiotic system una combinazione di probiotici e prebiotici che aiutano a mantenere l'equilibrio del cuoio capelluto dopo il lavaggio con l'energizing low shampoo distribuire sulla cute il contenuto di una fiala e massaggiare con movimenti circolari per favorirne l'assorbimento non risciapuare e procedere all'asciugatura quindi anche in questo caso una lozione che si applica appunto sul cuoio capelluto e poi si può tirare sul capello si tratta in questo caso di fiale sempre da applicare monodose come vedete con il loro beccuccio da applicare appunto sulla fiala e quindi poi in questo modo essendo il beccuccio una sorta di contagocce vi verrà facile applicare le fiale e sono 3, 6 e 6 sono 12 quindi in sostanza andate avanti per 12 shampoo per cui un bel trattamento perché se fate due shampoo la settimana sono 2, 4, 6, 8 10, 12 sono 6 applicazioni 6 settimane scusate sì 6 settimane ultima cosa appunto l'energizing low shampoo quindi lo shampoo leggero delicato sulfate free quindi privo di solfati da utilizzare in combinazione termino col dirvi che ovviamente di recente sono stata al prize day di sephora quindi fra poco sarà online il video che vi racconterà tutte le novità skin care che sono state presentate e mi è stata omaggiata la tazza simbolo diciamo del natale di quest'anno sephora che è appunto ha sempre un animaletto sapete c'era la foca non mi ricordo gli altri anni cosa c'era l'orsetto forse ogni anno c'è un animaletto che è in pratica protagonista qua ci sono delle credo delle stelline da mettere nella vasca da bagno si ed è veramente pieno e profumano tantissimo ma in pratica sono tutte quante contenute dentro ma quante sono tantissime dentro una tazza ovviamente questa tazza è acquistabile da sephora quindi se siete appassionate di tazze ve la faccio vedere contiene 3, 4, 5, 6 8 stelline da bagno in pratica che sono di quelle di sciogliere nell'acqua del bagno ma ve la sto facendo vedere più che altro per ricordarvi che c'è online appunto il video per il momento era quello relativo al make up nel momento in cui sto girando è quello che c'è online ma nei prossimi giorni ci sarà anche quello sulla skin care e poi mi hanno regalato una maschera la sephora rose gold mask super riconfortante maschera metallizzata a rosa dorato nutriente quindi ovviamente nel momento in cui arriverà l'inverno le pelli secche come la mia patiranno la cosa e quindi maschere nutrienti a go go in questo caso credo che sia appunto una nuova uscita è anche insomma sempre più presente il fattore di poter instagrammare le maschere farsi selfie con le maschere luminose glitterate in questo caso è rose gold e basta ragazzi questo era tutto quanto se non distruggo tutto ciò che vi volevo far vedere degli ultimi arrivi qui in casa mia spero di avervi tenuto a compagnia con questo spacchettamento di novità e noi ovviamente ci vediamo domani con un nuovo video ciao ciao